Una grande opportunità essere a Rimini per l'organizzazione della Gran Loggia, dal 2000 che collaboriamo con il Palazzo dei Congressi e con Convention Bureau e sono due aspetti trainanti e importanti per la nostra istituzione, poiché il Palazzo dei Congressi con la nuova struttura ha fatto un salto avanti nella capacità e nell'opportunità di concedere spazi plasmabili che contribuiscono alle nostre necessità e sicuramente si prestano a necessità di colleghi che possono affrontare tematiche più varie, proprio perché c'è un'enorme sala, la piazza che può essere suddivisa in spazi e la competenza di Convention Bureau contribuisce ad aiutarci negli allestimenti degli spazi. La nostra istituzione viene a Rimini per tenere la Gran Loggia annuale che è l'incontro in cui tutti i fratelli della nazione si incontrano, è un momento molto importante e l'allestimento dello spazio in cui ci si incontra, che è un tempio, è particolarmente complesso e sicuramente qua abbiamo trovato una disponibilità, competenza anche nell'organizzazione degli spazi, degli allestimenti, degli arredi, dell'aspetto delle luci e dell'audio che contribuiscono a migliorare ciò che dobbiamo andare ad organizzare.